Giuseppe Carboni, hai appena ricevuto un pensiero da parte della Contrada dove hai vinto questo palio di agosto, tre volte a Pia Castagnale o due vittorie, questo la dice lunga sulla tua preparazione e piacere anche di potere qui sulla miata, sei venuto per caso? Ma io non credo proprio, sai? Ma no, per caso, giustamente, io l'ho detto per caso perché giustamente doveva venire Giuseppe e Giuseppe era impegnato per il palio di Siena e il palio di Siena è stato rinviato e poi la Contrada insieme a Giuseppe hanno deciso di cercarmi, mi sono messo disponibile e niente, poi è andato come è andato. È andata che hai avuto un soggetto più che forte, no? Un angelo rosso che si è mostrato. Sì, un cavallo che giustamente avevano scelto la Contrada del Castello insieme a Giuseppe e tutto, io mi ho trovato già tutto pronto, però il cavallo era anche delle prime armi perché un palio non l'aveva mai fatto, anche per la prova un po' ha avuto dei problemi così, anche un po' del palio. Alla mossa non era tanto per la quale diciamo, un po' perdone. Bravo, il giorno prima sono dovuto scendere anche un po' così. E niente, la corsa è andata tutta bene e poi si è vinto. Un quarto giro dove si è venuto fuori? Sì, un quarto giro, un cavallo un po' l'ha aspettato, un quarto giro mi ha reagito come un cavallo che ha sempre fatto vedere all'ippodromo quello che vale perché il cavallo sulla lunga distanza, sulla Follonica, il cavallo ha sempre fatto la sua figura, mi sa 15 giorni prima era arrivato terzo al Gran Premio a Follonica, il cavallo è un cavallo valido. Il 2024, datti un voto. Ma il 2024 è il mio voto, non sono stato molto contento di me, non di me, della situazione, perché a Fuccecchio non siamo andati bene, siamo andati in terra non per colpa mia ma per colpa di nessuno, un po' di sfortuna è così. E poi Legnano peggia ancora per vari motivi, non ho neanche corso diciamo, io di Siena ero squalificato per due pali e non mi sono, era un'annata così. Poi è venuto il palio di Pian Castagnaio, si è vinto e ci ho tirato su un po'. Una spinta per il futuro, per il prossimo anno partiamo il piede giusto diciamo.